riguarda appunto il corso Educare la Pace in mondo post-pandemia, le sfide della pace. La prima lezione è stata l'inaugurazione del sottosegretario di Stato per i rapporti con gli Stati ed oggi abbiamo con noi il professor Don Sergio Massironi su un tema molto interessante che è il pensare in noi, la fraternità e l'amicizia sociale. Dico molto interessante perché ci inserisce anche in una riflessione molto vicina a Maritain. Maritain parlava di amicizia civile, parlava di fraternità, quindi questo tema è vicino alle nostre riflessioni, al nostro diciamo filosofo e soprattutto vicino al tempo che viviamo. Ecco io saluto gli studenti che sono qui presenti, saluto anche tutti quelli che sono appunto presenti sui social e darei, diciamo, prima di dare la parola a Don Sergio Massironi, ecco qualche parola per presentarlo. Innanzitutto lo ringrazio di cuore per la sua presenza. Don Sergio è direttore di ricerca sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale della città del Vaticano e diciamo con questo Dicastero noi ci siamo già confrontati con diciamo l'allora Monsignor Diuffè che insomma era capo del Dicastero e con una bellissima lezione appunto su Maritain che che tende in uno dei nostri corsi. Oggi ecco abbiamo Don Sergio e il professor Massironi che in alcune poche parole vorrei un attimino presentare. È nato a Lecco il 6 agosto del 77, quindi siamo innanzi ad una figura molto giovane e sacerdote dal 2002 nella diocesi di Milano, e per due anni ha guidato come rettore il collegio arcivescovile di Monza e Merate. Dopo l'ordinazione sacerdotale ha studiato filosofia all'Università San Raffaele di Milano e i suoi relatori di tesi sono stati Ernesto Galli della Loggia e Roberta De Monticelli. Gli studi di licenza sono stati dedicati in particolare alla recensione contemporanea di Niccolò Cusano. tra i suoi testi vedeva appunto l'ultimo, diciamo, il cardinale inquieto, la ripresa di Cusano in Italia come provocazione alla modernità, credo. È una delle ultime pubblicazioni. che, insomma, attualmente appunto svolge questa direzione presso la sezione migranti e rifugiati e il di Castero per il servizio di sviluppo umano integrale, un di Castero che prende come riflessione l'umanismo integrale, quindi ci ritroviamo perfettamente con le riflessioni di Maritaine e dal 2015 collabora con il blog Diocesano, Milanesi Occhi sul sociale e con il quotidiano della Santa Sede, l'osservatore romano. Qui credo abbia scritto più di, da quello che vedevo, anche dagli articoli, più di un centinaio di articoli sull'osservatore romano, oltre a scrivere ancora sul suo avvenire dal 2018 e con la rivista del clero italiano. Ecco, mi soffermavo anche su alcuni libri scritti che sono, credo, molto interessanti, oltre a quello del cardinale inquieto, ma quello scritto con la Smerilli, è l'adesso di Dio e i giovani e il cambiamento della Chiesa, ancora senza sconti, 12 incontri con l'energia del Vangelo, la sfida dell'unicità. Insomma, da quello che si evince anche dalle pubblicazioni, un po' anche dalla storia di questo curriculum, vediamo una sorta di vicinanza anche ad un pensiero e a quelle che sono le opere del cardinal Martini, quindi almeno da quello che si legge. Poi sicuramente, ecco, lei ci saprà dire di più e meglio. Ecco, io darei subito la parola al professor Massironi. Ecco, alla fine della lezione probabilmente ci sarà un piccolo dibattito rispetto alle domande che insomma potranno nascere appunto dopo la lezione. Bene, grazie ancora e l'ascoltiamo con piacere. Grazie a voi, grazie di questa presentazione. Fa sempre un po' impressione ascoltarsi riletti e sentire il proprio percorso biografico in maniera così ricca, interpretata da chi si incontra per la prima volta. Devo dire che riconosco davvero tanti figli che si sono intrecciati e forse la cultura dell'incontro di cui parla Papa Francesco ha proprio a che fare con il modo in cui le nostre vite si incrociano e continuano a farlo anche con l'incontro di questo pomeriggio. Ho pensato di fare un percorso insieme, un percorso di 15 passi. Se dicessi un discorso di 15 punti probabilmente mi scolleghereste subito. 15 passi può essere una misura più proporzionata, più a misura d'uomo rispetto. Però credo che sia articolata la questione e così vorrei vivere con voi questo momento. Se siete d'accordo farei una condivisione di schermo in maniera che su alcune slide possiate avere almeno i titoli dei vari passi e alcuni elementi di quanto dirò e cercherò di attenermi poi soprattutto al testo che ho scritto proprio per una questione di rispetto dei tempi, insomma, rispetto a quanto ci stiamo dicendo. Allora, faccio questo tentativo di condivisione dello schermo. Si vede? Sì. Sì, 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 va bene. Perfetto, perfetto. Allora, il primo passo che vi proporrei è questo, il coraggio di pensare. Pensare è il verbo che il titolo del nostro incontro antepone a ogni altra parola. Viviamo in realtà una cultura che molto spesso oppone i fatti alle parole. Se rimango al testo biblico, in realtà, che cosa dobbiamo fare? È stato chiesto agli apostoli il giorno di Pentecoste, da coloro che ascoltando per la prima volta il loro annuncio, si sentirono colpiti, si sentirono trafiggere il cuore. E anche che cosa devo fare? È la domanda con cui il giovane ricco avvicina il maestro buono. Eppure la domanda sul fare, su che cosa fare, sganciata dal pensare, rischia, credo, di essere travisata. L'enfasi posta sul primato dell'azione induce a considerare il pensiero e la parola molto spesso come processi effimeri e opzionali. La tendenza è quella di porre in antintesi il potere dell'agire con quello del riflettere, sbilanciando il piatto della bilancia a favore del primo, per cui non di rado si sostiene che ciò che conta è quel che si fa. Ecco, io credo che siamo qui ad assumerci la responsabilità di pensare in un contesto, quello accademico, che deve rimanere un santuario della parola. Ci sono tanti luoghi comuni che abitano non solo le canoniche, ma anche le accademie, parole d'ordine che valgono una stagione. Pensare criticamente si traduce nel fare domande per scorgere il significato profondo di ogni cosa, per dare senso, quindi orientamento, fecondità all'agire. Questo implica la vittoria, il vincere la pigrizia che fa stare fermi, l'ingenuità che ha paura della complessità e a volte anche la prudenza che scossiglia di esporsi, di venire corretti, di venire ripresi. Pensare il noi, inoltre, credo significhi anche pensare insieme. In questo senso la seconda parte del nostro incontro di oggi sarà realmente interessante per me. Simon Veila ha sollevato nel secolo scorso dubbi, di non poco conto, sulla possibilità di un pensare insieme, di un pensare fuori dalla solitudine, di un'intelligenza collettiva, ma lei per prima, e noi nello spazio di questo percorso, non vogliamo sottrarci a una cultura dell'incontro. Il secondo passo, il noi, una partita che investe il soggetto. Qualcosa di profondo negli ultimi due anni è cambiato, credo lo dica bene anche il titolo del corso, che è esplicita, dopo la pandemia. Ci stiamo incontrando online e questo semplice fatto ce lo ricorda, mancano condizioni di sicurezza per essere insieme. Allora non possiamo pensare come prima e non possiamo pensare le cose di prima. Andiamo incontro alla realtà più consapevoli di quanto ci leghi un destino comune. Investiti da una tragedia, forse dovremmo dire da tragedie planetarie, sono molti a riconoscere o almeno a invocare la fine dell'autoreferenzialità e l'inizio di un tempo del noi. Bene, ecco, io credo che il coraggio di pensare chieda una sorta di distacco, chieda di non gioirne troppo presto. Il fatto che fraternità e amicizia sociale siano anche in ambito ecclesiale diventate priorità con il pontificato di Francesco, parole chiave dell'enciclica Fratelli Tutti, non si può tradurre in una critica ripetizione di slogan. In particolare vorrei oggi sostenere la tesi per cui affinché il noi non sia disumano, soverchiante, pericoloso come le piazze piene del Novecento, perché quindi si tratti di fraternità, l'essere insieme domanda una rivoluzione silenziosa nell'io. E a questo livello credo che il cristianesimo e la cultura europea non possono abbandonare il campo in una partita che al di là degli immensi processi di globalizzazione in cui siamo inseriti, si continua a giocare nel cuore dell'Occidente. Roma stessa va pensata in questa sua collocazione storica, geografica, culturale. Quella sul noi è infatti una partita, vorrei dire, che investe il soggetto. Si tratta di non abdicare e piuttosto di andare al fondo della modernità. Parlando del cardinale inquieto, prima veniva ricordata questa ipotesi di lavoro, di avere nell'umanesimo una provocazione al contemporaneo, a ritrovare della modernità le istanze più radicali per certi versi tradite. Avendone rilevati i limiti, da Adorno in poi il Novecento potremmo dire la deflagrazione, ma poi la critica e l'implosione del moderno non ne va disinnescata l'originalità. Esiste infatti noi una prevalere del collettivo capace di azzerare non solo la libertà ma anche la giustizia. Fratelli tutti è un'espressione di cui va colto il carattere escatologico paradossale se vogliamo che il suo contenuto divenga progressivamente realtà. Solo una conversione può infatti modificare il nostro sentire. Papa Francesco introduce in questo, lo vedremo, una categoria fondamentale parlando di sogno. Vorrei fare riferimento come terzo passo a dei dati. Il Censys ha intitolato il suo rapporto cinquantaquattresimo, quello al termine del 2020, l'anno della paura nera. Ci sono dei segnali credo da cogliere in tempo, sono numeri, dati. L'anno della paura nera porterà con sé conseguenze gravi e di lungo periodo. Di esse impressiona, credo, quello che il rapporto del Censys antepone a tutte le altre paure. La propensione a rinunciare volontariamente, cito, alla solitamente apprezzatissima sovranità personale. Il cinquantasette virgola otto per cento degli italiani, diceva il Censys a fine dell'anno scorso, è disposto a rinunciare alle libertà personali in nome e a tutela della salute collettiva, lasciando al governo le decisioni su quando e come uscire di casa, su cosa è autorizzato e su cosa non lo è, sulle persone che si possono incontrare, sulle limitazioni della mobilità personale. Il trentotto virgola cinque per cento è pronto a rinunciare ai propri diritti civili per un maggiore benessere economico, introducendo limiti al diritto di sciopero, alla libertà di opinione, di organizzarsi, di iscriversi a sindacati e associazioni. La paura pervasiva dell'ignoto, osservava ancora il Censys al termine dell'anno scorso, porta alla dicotomia ultimativa, meglio sudditi che morti, e porta a vite non sovrane, volontariamente sottomesse al buon Leviatano. Fine della citazione, abbastanza impressionante come tipo di analisi, di giudizio, di commento sulle dinamiche contemporanee. Si tratta di un'analisi drammatica, tra l'altro nella popolazione tra i diciotto e i trentaquattro anni le percentuali sono ancora più clamorose. L'Istituto di ricerca evidenzia quindi il nesso tra questo tracollo dell'io e la crescita di un livore collettivo, descritto come una logica o salute o forca, richiesta di pena severissima perché non rispetti le misure di contenimento abbia mal gestito l'emergenza, del carcere per chi avesse violato la quarantena, negazione delle cure per gli anziani e per chi non si sia adeguatamente protetto, boom di simpatie per la reintroduzione della pena di morte. Commentava il Censys, c'è un rimosso in cui pulsano risentimenti antichi e recentissimi di diversa origine, intensità e cause. Ecco, così si presenta il collettivo cui urgere guardare per chiederci chi siamo e chi saremo. Solo in questa luce possiamo, credo, chiederci onestamente in che modo, in che senso dire noi. E qui credo che possiamo dirci, forse più coscienti, che siamo a un tornante cruciale dello Stato di diritto e della stessa missione ecclesiale. L'uno e l'altra sorgono in realtà dalla fine della paura, da un'emancipazione, dal buio, da un soggetto sorpreso dalla coscienza della propria dignità e della propria libertà. Consapevolezza mi sembra una parola chiave, la maturità dei singoli che fa tremare le istituzioni, che mette in forse il potere, che rompe la ripetizione, genera forme nuove di legame. Può sorgere diversamente una vita insieme, realmente umana, inclusiva, che abbia il sapore della fraternità. Quella che trovate sulla slide è una citazione già del 2013, veniva nominata prima, è stata la mia relatrice di tesi magistrale, Roberta De Monticelli. Questo testo è dal libro sull'idea di rinnovamento, edito da Cortina nel 2013. La nostra questione, dice, diventa quella dei nessi fra rinnovamento civile di una società e rinnovamento morale di ciascuno, fra la speranza civile e la speranza che ci tiene in vita come persone o che ci manca invece e ci fa mancare di vita. Abbiamo bisogno di sentire che le nostre vite e soprattutto quelle dei nostri figli valgano la pena che costano, cioè abbiano senso. Quinto passo, che mi sembra conseguente a tutto questo, cambiare punto di vista. Mai come in quest'ora, esposti a un futuro spogliato di qualsiasi promessa, occorre riconoscere nella speranza un punto di non ritorno. E parlare quindi a un io divenuto troppo fragile, stimando coscienza e libertà come il santo dei santi, più di quanto non si sia fatto fin qui. Papa Francesco, con i gesti e se necessario con le parole, mi sembra stia provando a fare proprio questo. Dopo il 2020 andava presa di petto questa rassegnazione che ci incupisce e percepito il rilievo collettivo della speranza. Fratelli Tutti, la lettera enciclica, appunto, a proposito del titolo di oggi, sulla fraternità e l'amicizia sociale, porta la data del 3 ottobre 2020, puntualissima quindi. Se le convenzioni cristiane, Fratelli Tutti numero 6, rimangono il fondamento a partire dal quale lasciarsi orientale, l'intento di Francesco è quello di trascendere la sua stessa prospettiva confessionale, le prospettive particolari, e invitare tutti a porre in atto la rivoluzione dell'incontro, a impegnarsi personalmente nel cambiare le cose. Come osservato dal cardinale Michael Cerny e da Don Cristian Barone, in un libro uscito all'inizio del mese di ottobre di questo anno, Fraternità, segno dei tempi, per libreria editrice vaticana, cito, trovate sulla slide, Francesco non intende effettuare una settica descrizione della realtà, ma si propone di avviare una riflessione sul tempo presente in grado di districarne alcune tra le molteplici trame che ne percorrono l'ordito. Il suo intento è di offrire un punto di vista altro rispetto al sentire comune, in grado di situare una lettura del tempo presente che risulti inclusiva, cioè capace di rilevare quelle vulnerabilità che la abitano. E qui arriviamo un po' al cuore del nostro percorso di oggi, attorno a queste due parole che mi sembrano decisive, realtà e vulnerabilità. Sono le due categorie da non perdere di vista, credo, fondamentali per una corretta ermeneutica della proposta di Francesco, cui faccio riferimento perché credo che mi abbiate invitato anche perché è espressione attraverso il dicastero di questo magistero. Che cosa significa realtà? È una parola che ricorre moltissimo negli interventi di Papa Francesco. Nel pensiero antico e anche in molto di quello cristiano, realtà è il contrario di apparenza. Ciò che vedi è apparenza, ma c'è una vera realtà che sta al di là. Il moderno potremmo dire, chiaramente semplificando un po', ma per intenderci, considera invece vera realtà, quella che appare, quella che può essere riscontrata con un'indagine scientifica. Bene, il primo capitolo di Fratelli Tutti, ma emblematico in questo senso, è anche il primo capitolo di Laudato Si, senza tradire l'antico, sceglie un approccio del tutto moderno, inserendo il magistero tra le voci della contemporaneità alle prese con dati inoppugnabili. I primi due capitoli delle due encichiche, Laudato Si e Fratelli Tutti, sono una grande recensione di dati, di situazioni riscontrabili da tutti che pongono degli interrogativi che vanno ben al di là dell'orizzonte della Chiesa Cattolica. È una scelta di metodo che colloca dentro una coine, scegliendo di abitare un noi, la cui agenda non è forse quella della teologia, ma certamente è quella che le circostanze storiche impongono. Le circostanze storiche, potremmo dire, ci trovano vulnerabili, qui l'altra parola, vulnerabilità, e non solo a motivo di una imprevedibile pandemia. Vorrei dire che tre sono i vulnus, le ferite da cui Fratelli Tutti ci descrive segnati. Il crollo delle mete indicate dal passato, la strumentalizzazione dei singoli, la fine della coscienza storica. Li vedremo uno a uno tra un attimo. Sono, potremmo dire, gli effetti indesiderati e inconfessati del paradigma culturale dominante che Francesco nell'ha laudato si chiama il paradigma tecnocratico dominante. Vedremo come la sfida stia, secondo Francesco, nel riconoscere la realtà più larga, maggiore di tutto questo, più ricca, più generativa. Brevemente, però, i tre vulnus credo che meritino un'adeguata considerazione nel loro realismo e nella loro interna connessione. Il primo di questi vulnus, siamo al settimo passo, il crollo delle mete passate. In primo luogo, siamo ai numeri dieci e undici di Fratelli Tutti. Il Papa focalizza l'attenzione sul grande progetto della modernità, cogliendolo come un progetto coinvolgente, come una visione comune. Il moderno aveva mobilitato attorno a delle aspettative, a una visione unitaria di società. Le dichiarazioni internazionali seguite alla Seconda Guerra Mondiale rappresenterebbero in questo il culmine di un universalismo che di seguito ha riportato notevole battute d'arresto. Vengono ricordati dal Papa gli insuccessi nell'attuazione dei processi e dei progetti di larghe intese, come il sogno di un'Europa unita o di un'integrazione tra i paesi latinoamericani. E alla radice di questo fallimento il Papa vede la mancata realizzazione dei diritti umani garantiti in modo universale. Secondo questa prospettiva, secondo la sua proposta, sarebbero principalmente i giovani a fare le spese di questa sfiducia generalizzata nei confronti delle progettualità a lungo termine, essendo inevitabilmente condizionati dalla diffidenza, dal disincanto di coloro che li hanno preceduti. Scrivono il Cardinale Cerni e Don Barone nel loro volume, la citazione che ho riportato nella slide. Ciò che si viene a creare è una sorta di scollamento, di interruzione, tra le mete poste dalle generazioni passate e le aspirazioni verso cui tendono i giovani nell'immaginare il futuro. Questo problema di comunicabilità intergenerazionale è un fatto di eredità culturale. La giustizia, la solidarietà, il bene comune non rientrano più in quella descrizione dell'esistenza che racconta la vita di un uomo come degna di essere vissuta. Il mito del successo e l'affermazione di sé sembrano costituire le uniche narrazioni valide e funzionali al raggiungimento di una pienezza e di una soddisfazione personale. Il secondo vulnus che il Papa descrive riconosce la strumentalizzazione dei singoli siamo a Fratelli Tutti 31 in particolare dove si parla di uno scisma tra singolo e comunità umana. Questo scisma questo taglio tra singolo e comunità corrisponde dice il Papa perfettamente alla logica spietata della globalizzazione così come si è configurata all'interno di un modello economico finalizzato esclusivamente all'ottimizzazione dei profitti. Questo modello economico trarrebbe vantaggio dalla polverizzazione del senso di appartenenza a una comunità e dalla segmentazione delle identità. Cito rendere i singoli più soli e meno radicati nel proprio contesto sganciare i giovani dalle comunità di appartenenza per indirizzarli verso uno stile di vita autoreferenziale allo scopo di trasformarli in consumatori più efficienti in valia dei propri impulsi cercheranno una definizione di sé in ciò che il mercato imponendo bisogni superflui proporrà loro come necessario. Qui forse dovremmo domandarci se questa descrizione riguarda soltanto i giovani o non coinvolga già tutto il dinamismo della vita reale anche di noi adulti. Papa Francesco spiega come questa progettualità dissennata si palesi in forme di colonizzazione culturale che azzerano le differenze al di là delle aree geografiche delle aree continentali. Terzo vulnus terzo passaggio molto interessante molto delicato fratelli tutti tredici siamo investiti secondo il Papa da una sorta di decostruzionismo che mira a dissolvere la coscienza storica e a minare la memoria collettiva degli eventi passati qui cito il libro del cardinal Cerni con un effetto simile al precedente confinare l'individuo nell'immediato nella sensazione presente senza una cornice o uno sfondo infatti l'impulso non può essere letto o interpretato la macro storia che offre una comprensione globale condivisa dei fatti storici a lungo termine e la micro storia che si compone del retaggio esperienziale a breveraggio degli anziani servono alle nuove generazioni per contestualizzare il loro sentire e disporre di un'ermeneutica che sottragga la loro istintività dal dispotismo del tutto e subito facendone consumatori compulsivi del tutto disinteressati a ciò che sta dietro i meccanismi di produzione come il depauperamento delle risorse naturali o lo sfruttamento dei lavoratori nei paesi indigenti fine della citazione di Cerni e Barone siamo già forse già al decimo passo che vi propongo a questo punto si capisce meglio perché fraternità e amicizia sociale diventino così fondamentali ma Papa Francesco dice si presentano come un delirio accogliere la realtà partire dalla realtà ospitarla significa per Papa Francesco riconoscere che questa grande perdita di una progettualità comune l'apparente fine del sogno moderno che orienti quindi verso degli obiettivi non solo allarga le distanze aumentando il dislivello per esempio tra ricchezza e povertà o in asprendo moltiplicando i conflitti la terza guerra mondiale a pezzi come dice ancora in fratelli tutti ma induce a pensare addirittura che sia assurdo immaginare un'alternativa praticabile il Papa scrive senza reticenza in più punti per esempio fratelli tutti trenta lo trovate nella slide che il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace sembra un'utopia di altri tempi mi sembra un'affermazione importante all'interno di un corso come questo che si propone di educare alla pace si interroga su che cosa significhi educare alla pace ancora fratelli tutti sedici un progetto con grandi obiettivi per lo sviluppo di tutta l'umanità oggi suona come un delirio occorre allora cambiare approccio e ammettere l'urgenza di costruire un noi il Papa scrive da questo punto di vista un noi che abiti la casa comune consapevoli che questa inversione di rotta va contro gli interessi del paradigma economico attuale un'economia che è sempre guardata come di parte perché riguarda gli interessi soprattutto di chi già può e non è più indice di sviluppo umano effettivo e integrale è messa in discussione da Papa Francesco la categoria di crescita non è più automatico che quello che il paradigma attuale chiami crescita corrisponda a rimanendo al nome scelto per di castello di cui faccio parte a uno sviluppo umano integrale che cioè riguardi tutta l'umanità e riguardi l'integralità dei vari aspetti della vita umana da questo punto di vista Cerni e Barone riconoscono nel Magistero di Francesco non è così consueto sentirlo fare con questa libertà almeno una differenza rispetto all'approccio tenuto dalla linea dei predecessori di solito siamo più preoccupati a sottolineare la continuità qui è posta in evidenza una discontinuità rispetto all'approccio dei predecessori non si tratta più di moralizzare l'economia scrivono di rendere il capitalismo più compassionevole e solidale di chiedere che cattano più briciole dalla tavola del ricco e pulone piuttosto piuttosto si tratta laudato sì centonovantaquattro semplicemente di ridefinire il progresso di cambiare totalmente assetto rappresentazione del mondo ripensando alla radice il modello economico di cui altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi l'economia fratelli tutti centosettantanove va integrata in un progetto politico sociale culturale e popolare che tenda al bene comune siamo al dodicesimo passo questo è un punto determinante rispetto al modo di pensare di ragionare di papà francesco a questo livello la parola sogno non va sottovalutata e deve essere opposta alla irrealizzabilità dell'utopia un attimo solo c'è qualche microfono acceso se è possibile genna grazie perfetto grazie a voi dicevo a questo livello la parola sogno va colta nella sua differenza rispetto all'irrealizzabilità dell'utopia se l'utopia ha un funzionamento e una logica a suoi propri nell'esercitare una critica di quello che è già dato il sogno di papa francesco ha un realismo diverso con delle implicazioni di notevole rilievo forse possiamo capirci meglio così a vent'anni dall'undici settembre le immagini della distruzione del World Trade Center tra l'altro questo nome credo che sia particolarmente interessante rimanda al centro del mondo degli scambi del commercio il nome delle due torri da questo punto di vista va connesso a tutto quanto Laudato Si e Frantelli tutti descrivono a vent'anni da allora l'undici settembre dobbiamo dire è certamente reale se non esistono questo è il punto altrettanto reali spazi di fraternità e di amicizia sociale allora l'undici settembre occupa tutta la realtà l'undici settembre è la fine della fraternità è l'opposto dell'amicizia sociale bene al Papa non importano i bisognerebbe ma ciò che c'è e ciò che si può fare la liberazione dal paradigma dominante di cui l'undici settembre così come la crisi finanziaria del duemila e otto sono più che effetti indesiderati è possibile solo perché già esiste un paradigma diverso che opera sotto traccia che tiene insieme i cocci di identità e di comunità in frantumi il sogno rappresenta quello che nell'esperienza umana che il sonno obbliga regolarmente a disconnettersi dal dominio dal controllo delle situazioni mobilita dimensioni profonde e rimosse stabilisce tra le cose delle connessioni diverse facendo entrare come dall'esterno il nuovo ecco fraternità e amicizia sociale esistono già ci dice Papa Francesco e come un sogno stabiliscono nuove connessioni un diverso ordine di senso che come tale può alimentare il desiderio e mobilita l'impegno dai Vangeli Gaudium in poi sappiamo che l'impegno a cui tende l'azione di Papa Francesco è dichiarato con un linguaggio tipico della sua provenienza costruire il popolo fratelli tutti duecentodiciassette quello che conta è avviare processi di incontro processi che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze forse in Europa useremmo espressioni diverse costruire la realtà sociale e così via dalla teologia del popolo tipica della provenienza di Papa Francesco ritorna in primo piano una categoria che chiede immagino non sia nuovo per voi di essere pensata di essere analizzata in una situazione storica in un contesto culturale come il nostro un passo ancora potremmo intitolarlo così il già del non ancora penso valga la pena di leggere questa citazione di laudato sì 112 in cui risulta inequivocabile ciò che per Papa Francesco rappresenta la categoria di sogno e come sia necessario pensare il noi è possibile scrive vedete sulla slide la citazione è possibile tuttavia allargare nuovamente lo sguardo e la libertà umana è capace di limitare la tecnica di orientarla e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso più sano più umano più sociale più integrale la liberazione dal paradigma tenocratico imperante un leitmotiv di laudato sì questo credo sia l'affermazione centrale avviene di fatto in alcune occasioni qua ho saltato la parte che forse potreste andare a cercare perché ve lo dico sinceramente è quella che poteva sembrare ma lo vedremo con la prossima slide la più fragile la più naif perché gli esempi che vengono citati rispetto alla nostra cultura europea economica imprenditoriale sono davvero esempi che vengono dai margini del mondo di realtà che sembrano essere come come davide di fronte a goria rispetto alle grandi questioni che riguardano il mondo il papa però le nomina senza imbarazzo e conclude l'autentica umanità che invita a una nuova sintesi sembra abitare in mezzo alla civiltà tecnologica quasi impercettibilmente come la nebbia che filtra sotto una porta chiusa sarà una promessa permanente nonostante tutto che sboccia come un'ostinata resistenza di ciò che è autentico ecco nel contesto biblico evangelico è questo del sogno il funzionamento proprio del regno di Dio con cui Gesù a cui Gesù invita avvolgersi con un'inversione a U quando dice il tempo è compiuto e il regno è vicino così filtra come nebbia sotto una porta chiusa una realtà nuova che proprio ora avanza ha la fragilità e domanda la cura di ogni germoglio irrompe ma non come le forze di polizia che irrompono sfondando la porta il regno filtra questa consapevolezza deve mobilitare essa deve vincere e deve convincere che non si tratti di utopia ma di una più adeguata comprensione della realtà di una liberazione da quanto comprime e soffoca la realtà il tredicesimo passo che vi proporrei ha a che fare con una espressione che ho trovato in Ghislaine Lafon un benedettino un grande benedettino francese morto a maggio dello scorso anno che ha dedicato uno dei suoi ultimi saggi al tempo di Papa Francesco edito e la fonte introduce questo principio di piccolezza per descrivere come la chiave di tutta la filosofia pratica del Papa questo principio si potrebbe esprimere così il motore della storia non è la potenza ma la povertà o ancora il cambiamento reale avviene mediante l'azione di elementi deboli e quanto si può stabilire se si guarda alla storia del mondo e dell'umanità poi alla storia della salvezza e infine alla storia della chiesa dice Lafon sono stati recentemente pubblicati numerosi libri sul tema della fragilità degli inizi e delle ripartenze qui potete seguire la citazione sulla slide l'idea di fondo è questa le situazioni di potenza sono in definitiva sterili esse sono legate a una certa condizione di un sistema globale capace certamente di performance di miglioramenti ed eventualmente di estensione ma all'interno di una configurazione chiusa incapace di una vera creatività la novità viene proprio dalle incrinature che non finiscono di prodursi nel sistema globale oppure viene dall'incapacità che il sistema evidenzia quando è attaccato dall'esterno da elementi estranei alla sua logica ecco io credo che vale in questo senso una ulteriore citazione di Laudato Si esattamente cento numeri dopo la precedente Laudato Si 212 a proposito delle tante iniziative che già esistono spesso ai margini del mondo che conta come alternativa al paradigma culturale dominante dice Papa Francesco non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi a volte invisibilmente inoltre l'esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità ci conduce a una maggiore profondità esistenziale ci permette di sperimentare che vale la pena passare per questo mondo siamo al penultimo passo che vi propongo l'enciclica Fratelli Tutti indica in questo spirito tre direzioni precise di impegno la buona politica oltre un mondo di soci fratelli è inteso qui come il contrario di soci soci essere soci in affari fratelli è qualche cosa che va oltre e una politica della fraternità riesce a vedere una dimensione diversa da quella semplicemente del dividersi la torta il dialogo come cultura dell'incontro oltre la moltiplicazione la moltiplicazione di muri e di frontiere terza pista d'azione il fare verità avviando processi di riconciliazione oltre la manipolazione oltre i colonialismi oltre la violenza ma per tornare al principio all'inizio del nostro cammino io credo che a questo punto sia decisivo accorgersi dopo avere incontrato questa dimensione decisiva rivoluzionaria del sogno riconoscere come non convenga invocare un'epoca del noi prima di avere colto che nella prospettiva di cui stiamo parlando il fondamento dell'amicizia sociale e della fraternità è una coscienza risvegliata una coscienza libera singolare grata Dio è lì dove ciascuno può essere presente a se stesso la consistenza dell'io la sua resilienza la lucidità della coscienza appaiono ormai come questioni di valore politico la cui sacralità credo interrompa il relativismo proprio perché non giustifica più la marginalizzazione del soggettivo nel campo delle opinioni prospettive forti di prima persona alla fine dei conti anche quella di cui oggi abbiamo parlato ha fortemente il carattere di prospettiva in prima persona di Francesco di Bergoglio con tutta la sua storia con tutta la sua sensibilità sono indispensabili a vincere il grigiore in cui il mondo si appiattisce e appare privo di valore si chiama nella tradizione giudaico-cristiana profezia la comunione dei santi nella fede cristiana è la forma di un collettivo in cui il noi ha scongiurato quella banalità che il secolo scorso ce lo insegna non genera altra banalità ma il male più cieco il segreto della comunione dei santi sta nell'intreccio tra l'unicità compiuta di ciascuno l'irripetibilità di ogni momento e il carattere escatologico del loro realizzarsi è veramente un altro mondo la comunione che già agisce sul nostro è uno squarcio che dissolve la ciclicità del tempo l'eterno ritorno dell'uguale così come ogni ingenua idea del progresso è il limite della modernità che fin qui abbiamo conosciuto la comunione dei santi potremmo dire dissolve la banalità del male la interrompe la smaschera ultimo passo la scena epocale del Papa solo in piazza San Pietro nella piovosa sera del 27 marzo 2020 credo che forse con la stessa intensità delle immagini dell'11 settembre possa ancora lavorare efficacemente nella coscienza comune non solo dei credenti ci ricorda che esposti all'incertezza dopo un travaglio in cui non si è parlato che di malattia di pericolo di morte la speranza collettiva sorge là dove dai numeri si passa ai volti e viene confessata l'insostituibilità di ciascuno questo deve dirci la morte che la vita è nostra e adesso è una chiamata occorre esserci non abdicare avvertire mentre si è nel guado di dovere a tutti la propria parola e la propria presenza il contrario è assistere dal proprio divano all'ineluttabile invocando il leviatano quel noi impersonale che solleva dal rispondere di sé la morte se non rimossa espone a un'esperienza inaggirabile di solitudine ma proprio così introduce un ordine di valori e dei criteri di giudizio che costituiscono l'appello più dinamico la gravità di quell'ora da guardare negli occhi risveglia emotiva non paralizza come il non senso l'impotenza lo stare male forse dobbiamo domandarci proprio chi farà circolare questa buona notizia che è comprensibile da tutti che quella sera del 27 marzo 2020 è riuscita a parlare all'intelligenza e al cuore di molti se non di tutti la vulnerabilità potremmo dire acuisce il sentire cito una seconda volta quel piccolo libro sul rinnovamento di De Monticelli il tempo del sentire è tempo di crescita ma ogni crescita è lenta una persona cresce in quanto cresce la sua consapevolezza il sentire non è legato all'azione né allo scopo ma per questo chiede sosta riempie il tempo vissuto e tipicamente acquieta ci fa silenti in questo sostare in questa quiete senza senza che ci sia volontaria introspezione cresce anche il senso di sé di ciò che più conta di ciò che ci definisce cresce o entra in crisi che è un altro modo in cui si matura per questo Agostino scrisse quella frase tanto nota e tanto fraintesa in te ipsum rede in interiore omine habitat veritas nulla è disumano e impersonale credo come il balletto dei numeri la conta dei morti la statistica dei contagi che il 2020 ci ha abituato a considerare normalità e però se ci facciamo caso è così che parliamo di migranti di poveri di vittime eh di scartati fraterno è un mondo in cui io esista e quando non sarò più non sia anonimamente passato e questa credo la scommessa del noi quando parliamo di fraternità di amicizia sociale credo che possiamo permetterci di farlo con questo tipo di coinvolgimento e di ehm sentire in prima persona grazie bene grazie grazie a lei Monsignor Massironi adesso ecco quello che eh insomma eh volevamo aprire è un bel dibattito su su questi eh tantissimi punti ma eh come appunto le diceva ben organizzati ehm in continuità tra di loro che ci riportano a questa centralità eh appunto della realtà della vulnerabilità e e come eh parlare di questi eh momenti fondamentali del nostro esistere se non attraverso è innanzitutto il coraggio di pensare oggi eh qualcosa di di fondamentale poi immaginiamo ancora di più eh il noi pensare un noi eh in una individualità individualismo che eh è forse la parte eh più difficile da da superare no all'interno del nostro del nostro esistere del nostro fare del nostro essere e quel soggettivismo che eh da un punto di vista filosofico sicuramente eh è fondamentale come appunto lo stesso Maritaine riteneva cioè il soggettivismo scoperto all'interno della modernità non è qualcosa di di negativo anzi di positivo ma ecco quando questo soggetto poi eh si si chiude all'interno di una sorta di individualismo eh diventa un soggetto morto eh quindi un soggetto che non non si apre all'altro che eh nella sua chiusura eh non mostra poi quella ricchezza della diversità che invece è fondamentale ecco mh punti molto molto interessanti che eh appunto attraversano eh vari vari aspetti fino a raggiungere il senso il significato poi di fraternità e amicizia eh sociale molto bello no? Rivedere questi eh questi aspetti come eh qualcosa che addirittura eh assomiglia ad un vero e proprio delirio no? Perché in realtà oggi un po' ecco chi vive questi eh questi valori potremmo chiamarli così perché la fraternità e l'amicizia poi sono dei valori eh non sono solamente qualcosa di eh di cristiano ma che appartengono all'essere umano quindi vorrebbero in un certo senso divenire dei principi no? che appartengono all'essere umano e parlarne oggi eh sembra quasi eh uscire fuori da eh da una da un'ottica eh addirittura diciamo eh umana e qualcosa che non appartiene al all'umanità stessa e quindi e quando invece sono sono cose che ci appartengono sono connaturali al nostro al nostro esistere come si si potrebbe vivere senza appunto una quella che è l'amicizia e soprattutto ecco quella che è la la fraternità no? Ritenerci poi eh fratelli nell'aiutarci nel vivere eh situazioni ma anche problemi gioie insieme ecco mh questo eh veramente ci ci accomuna tanto no? Nella figura dicevamo già prima del del filosofo Maritain ma anche del pedagogo perché non dimentichiamo eh quello che ha vissuto ecco lo stesso Maritain nel nella relazione con tutte quelle persone che riteneva amici fratelli eh in quella fraternità appunto che andava oltre eh diciamo l'amicizia stessa potremmo dire che eh apparteneva al ehm all'essere persone semplicemente no? E quindi eh e questo lo ritroviamo nei nei circoli che lui insomma fondava eh a Princeton ma anche a Kolbesheim a Parigi eh a Roma quando allora era diplomatico e ambasciatore quindi ecco questo raccogliere persone accanto e seminare quel appunto quel quel quella quella bellezza no? Che appunto era eh deposta all'interno della fraternità e dell'amicizia ma in un cammino eh appunto bello in un cammino in cui principi e valori si incontravano allora anche diciamo gli artisti più lontani dal cattolicesimo dal cristianesimo e che eh insomma vivevano tutte quelle che oggi riteniamo anche problematiche di discussione come poteva essere eh il surrealismo no? L'arte per l'arte ma anche l'omosessualità che allora era un problema molto molto diciamo discusso e eh e questi artisti che in un certo senso letterati guardavano non riuscivano a vedere oltre no? se non il suicidio no? quando non potevano eh andare eh oltre quella eh quel quel realismo esasperato che in un certo senso veniva insegnato anche all'interno della Sorbonne a Parigi ecco allora ecco in questo contesto la la sua lezione veramente è illuminante e è ricca di di spunti ecco io a questo punto eh lascerei un po' la diciamo la parola ai nostri amici che ci seguono e ecco per domande osservazioni o integrazioni se dovessero esserci grazie ancora don don Sergio e Gabriele non ti sentiamo forse non forse non funzionano le auricolari adesso sì sì ora mi sentite sì 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 ti sentiamo buonasera eh professor Massironi ehm durante la sua ehm lezione ho preso qualche appunto che volevo condividere con lei eh l'amicizia eh sociale passa attraverso la capacità di coltivare buoni sentimenti ed emozioni tuttavia la pandemia ha scatenato nella nostra società paura risentimento che hanno accentuato quello che le chiamava lo scisma tra singolo e comunità quindi mi domandavo se la politica ha una responsabilità di fronte ad una società in cui si è smarrita la dimensione eh comunitaria del noi e se la costruzione di una comunità virtuosa passa anche attraverso il linguaggio che promuova la generosità l'altruismo e in una parola l'amore verso l'altro grazie come facciamo intervengo di volta in volta o raccogliamo degli interventi come fate di solito ma vediamo possiamo anche rispondere di volta in volta già che sono i primi così diamo un po' di di tempo per cargurare ad altre osservazioni grazie Gabriele allora per questo intervento credo che sia proprio così cioè la pandemia ha investito le dimensioni potremmo dire più viscerali più profonde di ciascuno rendendo evidente secondo me quello che in realtà anche in contesti meno gravi comunque esiste cioè la realtà sociale è intrisa di ciò che non è razionale di ciò che non corrisponde a delle logiche comprensibili se quindi noi continuamente abbiamo da essere uomini e donne di parola che quindi danno conto danno ragione rispondono di sé sappiamo anche in realtà dell'esperienza che ciascuno ha di se stesso che ci sono molte cose dentro di noi che faticano ad avere un nome e che quando ci troviamo in circostanze estreme nostro malgrado emergono ecco la pandemia ha improvvisamente messo tutti dentro la stessa situazione e ci ha costretti a vederci e a come dire rapportarci gli uni e gli altri non sempre a partire dal logos diciamo così ok questo io credo sia stato un esercizio di collettività che meriterebbe di essere ripensato non semplicemente abbandonato superato siamo entrati sicuramente non desiderandolo nostro malgrado in una situazione che ha rivelato molto di noi ma giustamente secondo me come tu dici ha rivelato anche quello che ci aspettiamo per esempio dalle istituzioni o ha aperto delle domande sul ruolo delle istituzioni della legge e così via allora da quello da questo punto di vista io mi permetto rispetto alle tue osservazioni di dire due cose il primo le responsabilità della politica di cui dicevi io credo che anche qui sia molto importante tentare l'operazione di cui Papa Francesco ci ha indicato il metodo in quanto descrivevo prima non solo vedere come evidentemente la politica delude le aspettative di chi ha la tua visione i tuoi sentimenti le tue aspettative che sono più che ragionevoli mostrandosi molto spesso nel suo volto irresponsabile o utilizzando secondo tema dei linguaggi che alimentano la divisione anziché la coesione ma probabilmente noi dobbiamo riconoscere questo credo che sia il metodo ciò che c'è già e quindi per esempio accorderci per esempio che il livello della politica più vicino al cittadino quello di chi amministra e ha amministrato anche nel periodo più difficile le realtà locali conosce al di là del colore politico di una giunta piuttosto che di un'altra che cosa sia il lavoro per costruire la coesione sociale all'interno del comune e d'altra parte noi ci rendiamo conto è uno dei grandi interrogativi dei limiti del nostro tempo come la grande politica che pure ha esercitato una responsabilità al di là di tutti i limiti si è trovata a governare qualcosa a cui era impreparata e lo ha fatto facendosi attraversare la fase della pandemia noi ci siamo accorti forse ancora di più di come il tipo di situazione che noi viviamo ha delle regole di comunicazione a un'esigenza di ricerca del consenso che mettono gravemente a repentaglio la qualità del discorso politico la qualità della coesione sociale che il discorso politico genera e quindi ci troviamo credo non solo in Italia di fronte a delle vere e proprie forme di irresponsabilità legate alla ricerca di un consenso rapido ecco anche qui credo che valga la pena di riconoscere dove c'è già quello in cui crediamo per poter rafforzarlo e dire questo sì questo non solo è quello che ci piace ma che produce dei risultati molto più duraturi sul medio e sul lungo termine a proposito non solo di coesione sociale ma anche di tutto quello che dalla coesione sociale può fiorire a livello di iniziativa a livello di qualità della vita ecco io vorrei fare una domanda grazie moltissimo professor Mastinoni per questa bellissima lezione allora quest'anno anche il settantesimo anniversario dell'uomo e lo Stato noi celebramo anche la prossima settimana con un evento particolare di due giorni io vorrei tornare a questa perché sappiamo bene Maritain tenuta queste lezioni in America come un filosofo continentale insegnava lì a un pubblico anglo-sassona di cultura anglo-sassona invece adesso con questo richiamo posso dire che già si trova col concetto di fraternità sappiamo bene sia nella sacra scrittura nella filosofia occidentale ma oggi riproposto in questo momento particolare da Papa Francesco anche certamente avendo forte richiamo a poverello d'Assisi e sappiamo che questo venerdì Santo Padre andrà di nuovo ad Assisi e per anche fare questo questo possiamo dire sotto all'unitura allora il concetto io vorrei tornare da questa premessa vorrei tornare al concetto della fraternità fratellanza che da Abu Dhabi anche adesso è in ciclica come possiamo riflettere dal punto di vista politico io direi inter continentale trans atlantico perché nel contesto statunitense sappiamo cioè la libertà ma seguire la felicità non come nel nostro contesto europeo libertà subito con la fraternità dove c'è la tradizione repubblicana a portare questo allora vedendo questo riproposta quindi vedere anche il ruolo della fede il ruolo dell'ispirazione spirituale religiosa nella sfera pubblica come possiamo riflettere oppure lei potrebbe ci potrebbe dire qualcosa come arriverà questo messaggio che parte dalla santa sede un messaggio cattolico universale ma io volevo capire che questa che è ben radicato nel nostro continente come concetto potrebbe avere anche la stessa possiamo dire riflessione declinazione altrove soprattutto nel caso anglosassone bene allora da questo punto di vista devo riconoscere onestamente che non sono un anglosassone e che conosco forse troppo poco il mondo statunitense per rispondere per rispondere io per loro posso come dire anzitutto cogliere l'intelligenza della domanda la serietà della domanda e poi fare due osservazioni che che vanno in questa direzione la prima è che è sempre importante come dire non semplificare e riuscire a intravedere il modo in cui all'interno di un altro modello alcuni valori si ripresentano e sono interpretati da questo punto di vista credo che dobbiamo sia come cattolici sia come europei fuggire la tentazione di semplificare di fare la caricatura dell'altro in questo caso dello statunitense semplicemente per esempio a partire da una propensione potremmo dire per un approccio più individualista o pensare che il protestantesimo e la sua matrice siano esclusivamente da questo punto di vista faccio solo un esempio ma per intenderci lo dico spesso ai miei alunni della cattolica che hanno una rappresentazione di per esempio di Adam Smith tutta sbilanciata sulla dinamica individualista se uno legge con attenzione la teoria dei sentimenti morali di Smith si accorge il ruolo non di poco conto che l'empatia l'immedesimazione nella sorte altrui lo stesso Smith che di solito è considerato l'estremo opposto ha incorporato nel suo pensiero poi è chiaro che si tratta di capire gli effetti che un pensiero genera anche quando indesiderati però ecco questa è la prima osservazione si tratterebbe di capire nel mondo anglosassone come già l'amicizia sociale e la fraternità prendono forma perché credo che si debba riconoscere che siano dei contesti dove se è vero che la dinamica di concorrenza la dinamica competitiva la dinamica individualistica è particolarmente evidenziata sostenuta non possiamo certamente descriverli come contesti privi di una qualche forma di amicizia sociale e di fraternità anzi probabilmente dovremmo anche rilevare come all'interno di questi contesti che tipo di impatto abbiano le altre comunità penso alla presenza sempre maggiore negli Stati Uniti stessi di tutto il mondo latino a livello di lingua che sapete dal punto di vista anche democrafico demografico cresce rispetto al mondo di lingua inglese questa è una prima osservazione la seconda la direi così papà francesco ha molto forte l'idea di una realtà poliedrica il poliedro è l'immagine che lui usa per rappresentare il tipo di verità che è in mente ma anche il tipo di convivenza che ha in mente allora io credo che nello stesso ambito cattolico proprio la sua cattolicità richiede una appunto cultura dell'incontro in cui non necessariamente le parole siano le stesse gli accenti siano gli stessi si tratterà piuttosto di capire che cosa un modello come quello di anglosassone abbia in sé di provocatorio per esempio ai contesti in cui la dimensione collettiva tende a soffocare l'iniziativa personale perché la dimensione del gruppo la dimensione della famiglia e così via rischiano di assorbire e di incastrare ciascuno in condizioni già date e allo stesso tempo come appunto in un incontro reale nella comunità nelle relazioni internazionali quindi a diversi livelli tra prospettive possa prendere forma una realtà realmente poliedrica ecco questo credo che sia esteso ma avrete delle lezioni da questo punto di vista molto più mirate nel vostro percorso con chi si occupa anche di redazioni internazionali ma mi pare di intuire che estendendo ciò che oggi abbiamo detto a questo campo si possano configurare anche orizzonti culturali diversi che vivono col proprio accento col proprio timbro la stessa cosa grazie 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 se ci sta ancora qualche domanda da parte vostra oppure va bene così vediamo un attimino bene allora ecco chiudiamo chiudiamo qui questa questa seconda lezione del corso educare la pace e chiaramente questo questa lezione come tutte le altre sarà presente anche sui nostri social quindi chi vorrà risentirla potrà farlo tranquillamente ecco ci diamo appuntamento alla prossima il prossimo mercoledì 17 novembre sempre alle 16 con il professore Antonello Blasi della Università Lateranense che parlerà appunto sul tema la libertà religiosa è pace quindi come verbo essere non è la pace e dunque grazie ancora don Sergio per questa bella lezione e grazie a voi studenti e con gli studenti ci rivedremo certamente mercoledì e insomma con don Sergio cerchiamo di ricontattarci anche per altre attività che noi svolgiamo anche come istituto grazie e arrivederci a tutti buonasera arrivederci 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 grazie a tutti Grazie.